Meghan Markle deve iniziare a rispettare la regina. Ha detto l'ex consigliere di Donald Trump. L'ex consigliere senior di Trump, Jason Miller, ha affermato che quando sei un membro della famiglia reale devi controllare alcuni dei tuoi pensieri e ambizioni alla porta. Ha aggiunto. La regola numero uno per essere un reale è non mancare di rispetto alla regina. Della duchessa del Sussex, Miller ha detto al Sun. Penso che dovrebbe avere più rispetto per l'istituzione dei reali e penso che quando ti sposi nella famiglia reale ci sia un certo senso di decoro che penso che tu sia iscrivendoti a questo devi controllare. Alcuni dei tuoi pensieri e ambizioni alla porta. Penso che quando hai la regina devi essere rispettoso della regina. Meghan e il principe Harry hanno lasciato i doveri reali l'anno scorso per una nuova vita in America. La coppia ora vive in California con i due figli Arci e Lily. Il duca e la duchessa del Sussex si sono scontrati con i reali nella loro controversa intervista a Oprah Winfrey a marzo. Punto. Duncan Larcombe ha detto ok. Magazine. Ho capito. Che. Per un po' di tempo. Forse anche prima che George nascesse, era che William era piuttosto entusiasta che ogni figlio che aveva non sarebbe stato spedito in collegio. Eton per William e Harry non è stato un periodo infelice. A parte il fatto che è stato quando la loro madre è morta. Il che significa che William non incolpa la scuola o l'esperienza del collegio. Ma non ha mai avuto intenzione di avere i suoi figli come pensionati a tempo pieno e se George va in una scuola che lo offre, probabilmente sarà un pensionato diurno. Grazie a tutti.